Chiara Ferragni, l'ex fidanzato Riccardo Pozzoli si sposa L'ex di Chiara Ferragni annuncia le sue nozze su Instagram. L'ex fidanzato di Chiara Ferragni, Riccardo Pozzoli, ha deciso di sposare la bellissima modella Gabriele Caunesil. Ad annunciarlo è stato lui stesso postando una foto insieme alla fidanzata sul suo profilo Instagram. I fan hanno subito pensato ad una risposta all'annuncio della gravidanza e delle nozze della famosa fashion blogger Confedez. Nella foto postata da Pozzoli la modella sfoggia felice un meraviglioso anello di fidanzamento. In molti credono che non sia una coincidenza il fatto che entrambi abbiano annunciato le loro nozze nello stesso anno. Anche le date dei matrimoni potrebbero essere vicine. Chiara e Riccardo sono stati insieme per molti anni, hanno anche creato The Blonde Salad. Dopo la loro rottura in molti hanno continuato a sperare a lungo in una loro riconciliazione. I due hanno preferito mantenere solo un ottimo rapporto di amicizia e di lavoro. La fashion blogger è ancora socia dell'ex fidanzato. Chiara Ferragni e Riccardo Pozzoli sono ancora soci, fino a pochi mesi fa sembra proprio che questo abbia creato alcuni problemi tra la fashion blogger e il famoso rapper. Novella 2000 aveva addirittura parlato di una probabile rottura tra loro, dal momento che Fedez non riusciva proprio a tollerare Pozzoli. Ad oggi Chiara e Fedez sono più felici che mai, progettano le loro nozze e non vedono l'ora di abbracciare il piccolo leone. Chiara e Fedez